L'Abruzzo è fanalino di coda nella classifica nazionale riguardante l'erogazione del credito alle piccole imprese nel 2018 e quanto emerge dall'analisi condotta per la CNA Abruzzo dal ricercatore Aldo Ronci, il quale ha analizzato i dati della Banca d'Italia. Lo scorso anno il credito alle piccole imprese abruzzesi ha registrato un calo del 3,9%, mentre quello italiano è diminuito dell'1,1%, un dato preoccupante che riguarda imprese con meno di 20 addetti che hanno subito una flessione di 114 milioni di euro, mentre le grandi imprese hanno registrato una crescita pari a 90 milioni e le famiglie hanno soffruito di 229 milioni di euro in più. Hanno evidenziato, illustrando i dati alla stampa, il presidente e il direttore di CNA Abruzzo Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo e il direttore di Fidimpresa Abruzzo Adriano Lunelli. Abruzzo diventa maglia nera nel credito. Nel 2018 il credito alle piccole imprese è diminuito del 3,9% in Abruzzo e ci colloca all'ultimo posto nella classifica delle regioni. È un credito che diminuisce in particolare alle piccole imprese, quindi praticamente al mondo di nostro riferimento, da quello che in questi anni ha subito la stretta creditizia più forte. Il 18 aprile è previsto un incontro con il neoassessore regionale allo sviluppo economico Mauro Febbo per chiedere di trovare una soluzione al problema dei finanziamenti e delle misure di sostegno alle imprese visto che la dotazione globale tra fondi POR, FESR, PARFESR e Cipe ammonterebbe a 43 milioni di euro capaci di sviluppare investimenti superiori di ben quattro volte questa cifra. Alcuni anni stiamo discutendo con la regione per accelerare il processo di utilizzo, sono fondi regionali che hanno bisogno di alcune misure per renderli funzionali, però non si riesce a comprendere le ragioni per cui occorre così tanto tempo per avviare la procedura.